98 mamme, 85 bambini, 51 adolescenti, 30 papà. Questi i numeri delle persone assistite dal servizio voci che la cooperativa Labirinto ha istituito nel 2021 creando un percorso di sostegno ad una fascia minorile che vive situazioni di violenza domestica e conseguenti traumi psicologici così come supporto al recupero del ruolo dei genitori. Un bisogno che è emerso dalle donne che abbiamo accolto al centro antiviolenza e un bisogno che abbiamo voluto accogliere. Quindi aprendo questo servizio e aiutando i minori, quindi i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze a rielaborare questo vissuto traumatico perché quando parliamo di violenza parliamo sempre di trauma. Quindi un numero molto alto, un numero che ancora forse è un po' sommerso ma che speriamo che col tempo emerga sempre di più. Un lavoro sociale enorme e crescente che il 28 giugno alle 17.30 avrà una sua specifica cassa di risonanza divulgativa nella sala del Consiglio Comunale alla quale seguirà il giorno seguente l'inaugurazione di una installazione artistica realizzata da Romina Tassinari e collocata presso la biblioteca Controvento di Via Passeri. Nella fascia 3-6 anni lavoriamo attraverso il corpo, quindi abbiamo un laboratorio di psicomotricità. Nella fascia 3-7 anni abbiamo i laboratori espressivi teatrali, abbiamo i percorsi per preadolescenti e adolescenti, dei percorsi individuali ma accogliamo anche le mamme, quindi facciamo sia supporto alla genitorialità e abbiamo attivato un gruppo delle mamme. Accogliamo dal 2022 anche i papà in tre incontri per ridare un po' anche quella responsabilità e la consapevolezza che quello che hanno agito ha avuto una conseguenza sul proprio figlio ed è importante rimandare questa responsabilità. Il servizio voci si è sviluppato a partire dall'emergenza palesatasi dalle quasi 1.900 donne che si sono rivolte in 13 anni al centro antiviolenza in un proficuo lavoro di sinergia e dialogo con comune, consultori e soggetti privati. Su tutto il gruppo bancario Intesa San Paolo che da 4 anni sostiene i progetti di labirinto destinando 200.000 euro al solo servizio voci. Per noi l'esperienza nasce da quando nel 2011 abbiamo iniziato come cooperativa labirinto a gestire il centro antiviolenza accorgendoci che il 70% delle donne che seguivamo erano madri, avevano figli e nel 58% dei casi questi figli erano minori. Teniamo presente che la violenza assistita, giusto per dire di che cosa stiamo parlando quando parliamo del servizio voci è quella forma di maltrattamento a cui vengono sottoposti i bambini, i ragazzi e le ragazze nell'assistere una violenza psicologica, fisica all'interno delle mura domestiche e il non esserne direttamente coinvolti, quindi non una violenza diretta ma una violenza assistita, cioè quindi assistere a questa dinamica di violenza, è stato dimostrato che crea lo stesso trauma e le stesse problematiche nella vita adulta. Il coordinamento italiano dei servizi per il maltrattamento e l'abuso all'infanzia ha fatto una ricerca nel 2021 e i dati sono questi. I bambini, i minorenni, vittime di abuso e il trattamento sono stati nel 2021 77.493. Il 32% di questi, vittime di violenza assistita, quindi circa 25.000 minori nel 2021 sono stati vittime di questa violenza assistita, quindi è davvero una situazione di cui le istituzioni pubbliche, noi cerchiamo di dare come labirinto un contributo importante e si devono assolutamente far carico.